Un giorno Maria se ne stava sotto il portico di casa, quando all'improvviso un angelo le apparve. Maria si spaventò molto, ma l'angelo le disse, no, non temere, non sono mica venuto per farti paura, anzi, mi ha mandato Dio a chiederti una cosa, vuoi diventare la mamma di Gesù, il figlio di Dio? Maria rispose, ma com'è possibile, non sono neanche sposata, ma non devi preoccuparti perché penserà tutto Dio. Maria certo aveva un po' paura, però disse, va bene, facciamo così. Osservate bene la posizione delle mari di Maria e dell'angelo, Osservate bene anche il colore del mantello di Maria, il colore del vestito dell'angelo E che cos'è quella luce che hanno l'angelo e Maria sulla testa? Ed ecco Maria incinta, c'è il pancione. Guardiamo bene cosa ha intorno. Per esempio, il mantello blu, che cosa significa? E l'abito rosso e oro? E in mano che cos'ha? E quei fiori bianchi accanto cosa significano? Chi sono quelle due personcine piccole piccole che stanno sotto Maria? Poi Maria andò da Giuseppe e gli disse Sai Giuseppe, è venuto da me un angelo, mi ha chiesto se volevo diventare la mamma del figlio di Dio E io gli ho risposto di sì, e adesso aspetto un bambino ed è il figlio di Dio Giuseppe rimase malissimo perché non ci poteva credere Pensava, ma dai, ma che storia è questa? Un angelo da Maria, ma non è possibile, mi sta dicendo una bugia Però Maria è molto buona, non è il tipo da raccontare bugie Io la amo tanto, ma non la posso più sposare Però vorrei tanto sposarla, che faccio? Ed ecco che durante la notte un angelo gli apparve in sogno Era lo stesso angelo che era andato da Maria Gli disse, ma no Giuseppe, non avere paura Quello che ti ha detto Maria è vero Soltanto che Gesù e Maria da soli come fanno senza di te? Tu devi sposare Maria e fare da padre a Gesù Perché quello è piccolo, come fa? Gli devi insegnare tutte le cose Quando ormai Maria aveva una pancia grande grande E Gesù doveva nascere Arrivò un ordine dall'imperatore Augusto Che diceva, tutti gli uomini devono andare nella città Dove sono nati a farsi registrare per il censimento E Maria non ce la faceva a camminare Allora Giuseppe trova un asinello E Maria fece questo lungo viaggio, molto faticoso Arrivarono a Betlemme Ma c'era un sacco di gente Perché tantissimi dovevano tornare a casa A Betlemme a farsi registrare Ed ecco qua si vede proprio Un albergo dove c'era il censimento Tu come ti chiami? Da dove vieni? E hai moglie? Hai figli? Che lavoro fai? E tutti si registravano E Maria doveva partorire Ma non c'era posto da nessuna parte E non c'era modo di trovare un posto per dormire Gli indicarono una stalla E Giuseppe pensò Vabbè, meglio che dormire all'aperto con questo freddo Certo che puzza la cacca degli animali Ma almeno un po' di caldo c'è L'asino e il bue riscaldevano Maria e il bambino E così Gesù nacque C'erano il bue, l'asinello Ma osservate bene Ci sono quattro angeli Uno con chi sta parlando E altri due stanno pregando verso chi? E ce n'è, anzi sono tre E ce n'è uno che invece sta pregando Chi? E chi c'è dietro Gesù? Si vede la faccia di una persona Chi è quella persona? E qui davanti Giuseppe Perché è giù appoggiato che dorme? Ecco con chi stava parlando quell'angelo Parlava con i pastori Era andato dai pastori Che stavano dormendo Sui pascoli insieme alle loro pecore E gli aveva detto Correte, correte, venite a vedere È nato il figlio di Dio Guardate, guardate laggiù In quella capanna Presto andate a vedere E quelli partirono Perché era uno spettacolo Aspettavano il Messia da sempre Proprio a loro L'angelo è andato ad annunciare Questa cosa straordinaria Ma la notizia Che era nato Il re dei re Il figlio di Dio Aveva fatto il giro del mondo Cioè pochissime persone Se ne erano accorte Ma Alcuni magi Re magi Che venivano in Oriente Seguendo una stella Una stella cometa Stavano viaggiando Proprio verso Betlemme Portavano Tre doni Portavano Incenso Oro E mirra Ma perché questi Tre strani doni Per un bambino Mmm